Ecco tre curiosità incredibili sulla città di Parma. In giro per la città troverete questi QR code che, scansionando, permetteranno di ricevere una telefonata da dei personaggi illustri della città. Pronto? Ecco, sì, 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 mi senti? Sono io, sì, Giuseppe Verdi. Seconda curiosità, a Parma c'è un palazzo delle poste davvero meraviglioso, sembra di entrare in un palazzo reale. Terzo, qui troverete il più grande labirinto al mondo di bambù. È davvero un posto incredibile, un'esperienza unica da fare almeno una volta nella vita. Tagga qualcuno con cui organizzare una gita a Parma e seguimi.